Eccoci qua, salve coach, la prima squadra giamaicana di Bob A4 Signori, questo è un Bob A4, più o meno Allora, assegniamo i compiti, Yul Non toccarmi Ah, certo, scusa Allora, tu sarai il secondo interno Sei forte, sei veloce e ci starei benissimo lì Junior, tu sei il primo interno Sei pronto, sei sveglio, salta su Senka Io sono il pilota, giusto? No, tu sei il frenatore No, no, io sono il pilota No, no, tu sei il frenatore Io sono il pilota No, signore, sei il frenatore Tu non hai capito, io sono Senka Coffi, il campione di go-kart a spinta della Giamaica Devo pilotare io Ti rendi conto chi hai davanti? Si, mi rendo conto chi ho davanti Bene Adesso senti chi hai davanti tu Io ho due medaglie d'oro Vengo da nove record mondiali Nelle due specialità a due e a quattro Vengo da dieci anni di intensa competizione con i migliori atleti del mondo Certo che vieni da un sacco di posti Vedi, Senka, il pilota deve lavorare più duramente degli altri È il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene Quando i suoi compagni vanno fuori a bere birra Lui è nella sua stanza che si studia le foto delle curve Un pilota deve restare concentrato al cento per cento in ogni momento Non solo è tenuto a conoscere ogni centimetro di ogni pista su cui corre È anche responsabile della vita delle altre tre persone della sua slitta La vuoi tu questa responsabilità? È meglio far pilotare Deris Lo credo anch'io, Senka Lo credo anch'io